La gioia è la più bella creatura uscita dalle mani di Dio dopo l'amore. Così diceva San Giovanni Bosco ai suoi giovani. E questa massima tocca ancora oggi cuore di tante persone, specie in giornate speciali come quella di ieri dove si è festeggiato anticipatamente il Santo. Particolarmente sentita questa festa è stata nell'oratorio di Molteno, in provincia di Lecco. E cosa centri questo con il nostro territorio è un bel dilemma. Non fosse che quest'estate il gruppo giovani dell'oratorio lecchese è venuto in ritiro comunitario di preghiera proprio sulle nostre colline, nel Brovarone vicino a Trivero. È nato così un legame profondo con la nostra diocesi, specie con il vescovo Farinella e il canonico Minola, per i ragazzi semplicemente Don Roberto e Don Massimo, che al tempo avevano invitato il gruppo in vescovado e che proprio ieri hanno visto ricambiato il favore. Così la piccola delegazione biellese ieri ha raggiunto l'oratorio lecchese per celebrare la festa di San Giovanni Bosco. Sembrerebbe scontato, ma non lo è affatto, sottolineare le emozioni dei presenti nel ritrovarsi davanti a un vescovo, per di più alla mano e gentile con tutti, loro che il proprio vescovo lo vedono soltanto in televisioni, date le dimensioni imperiali dell'arcidiocesi di Milano. È stata inevitabile quindi la massiccia partecipazione alla cerimonia svoltasi nel palazzetto dello sport cittadino, con una particolare e quanto mai importante numerosa adesione dei giovani dell'oratorio, che hanno animato l'eucarestia, celebrata con qualche simpatico aneddoto nel rito ambrosiano. Al termine della messa, dopo un piccolo concerto della banda, sono stati fatti volare tantissimi palloncini verso il cielo, verso l'alto, come direbbe un altro grande esempio di santità della nostra terra, al Beato Frassati, ognuno con un pensiero di una preghiera personale, ad ennesima ed evidente dimostrazione che anche i giovani pregano e che anche i giovani hanno nel cuore la necessità di amare e di sentirsi amati dal Signore, colmando di gioia le loro vite che diventano testimonianza attiva, da cui tutti dovrebbero prendere esempio, mettendo da parte ogni grado e ogni merito di qualsiasi genere.